Ciao ragazzi, oggi facciamo l'inaugurazione del game over Qui abbiamo il miele, vai assa, prepara tutto Questa è la vetrina, parte della mia collezione Tutti i miei cuccioli, tutti i miei lughi, non tuttissimi, tuttissimi Oggi sarà un bel giorno, finalmente abbiamo spostato il negozio Non abbiamo dormito praticamente Per tutta la settimana E quindi godetevi questo video dove faremo un po' di... L'apertura L'apertura, un po' di robe Ci saranno ospiti, non diciamo chi Tra cui sicuramente l'altro di Oeros Che arriverà nel pomeriggio a portare il suo gioco Easy Ball Game, sempre il link in descrizione E godetevi questo video e... Forza ragazzi, andiamo! Il capitano che ha aperto lui tutto quanto E niente ragazzi, è il momento di aprire Godetevi il video e niente Andiamo a tagliare ragazzi, si parte con la nuova avventura Iniziamo, iniziamo Leggi la viale Allora, iniziamo Ma ne mancano 16 Oh! C'è il numero 12 Christian Franciosi Chiascuno Vediamo, vediamo un po' Quanti li mancano? Oh! 6! 6! Quanti li mancano? E li mancano ancora 2 Viene e che sentimo? 18! Andiamo... Ragazzoni, c'è con me il mio piccolo Ragazzoni, conti per spacchettare Il nostro case sigillato Che da game over solo Case sigillati E ora, madonna, sarà lo spacchettamento Finale, quale scegli il mio piccolo Direi questo, ti ispira Questo è per me, gli altri Vedremo chi sarà il fortunato a trovare il Latias Siamo vicini, si trova un altro lato Andiamo a casa Scusi, lei si sta appropiando di cose Sciampleate Scusi, lei però È una R, non è S.R Questo qui si chiama Sbarplazzo Sì, a Siderlandia Assolutamente, poi abbiamo lui, lo conosce Lui si chiama Meltril 120 bello, lui si chiama Mark Lidi, porca miseria Io vedo che brilla qualche cosa Siavinga 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 Non è nulla Già, ritroviamo l'edizione No, l'edizione Già, lo conosce, lo sappiamo Attenzione abbiamo Lui è Gal Flessil Bellissimo, borzolate Calmi, calmi, calmi Bello lui anche Questo qua è Fragate E poi abbiamo inchiuso Oh, oh, oh È mio, è mio, è mia Scusi, lei sta Appropriando direttamente Discusi, lei vuole una carta Attenzione È mio, è mio È Latios È Latios Ragazzi, grazie Innanzitutto grazie Questa è la prima cosa che si deve dire Perché è stata una giornata bellissima Quindi ringrazio a tutti voi che siete passati Chi per un minuto, chi per due Chi per tutto il giorno Voglio chiedervi scusa Perché ho visto il video all'inizio Ho visto il clip Ho una faccia devastata Ma è una faccia devastata Da una settimana In cui abbiamo fatto letteralmente il negozio Perché abbiamo messo Solo questa settimana Per creare il negozio Da zero Quindi spero che voi possiate capire La mia stanchezza La stanchezza degli altri ragazzi Di tutti quelli che ci hanno aiutato oggi Quindi ancora grazie Sono ripetitivo Ma grazie Ovviamente un grazie ai miei amici Che sono venuti a trovarmi Tutti quanti Un ringraziamento speciale Va comunque a Xuder Va riconosciuto Lo ringrazio ancora per esserci venuti a trovare Jack e Rise che sono venuti con lui La Pami Grazie davvero anche a voi È stata una giornata fantastica Ci siamo divertiti Abbiamo riso Abbiamo scherzato Abbiamo fatto cose Ed è credo di poter dire Come mi è consueto dire Che è solo l'inizio Di questa avventura Del game over Dei miei amici Dei miei soci Di tutto quello che facciamo E non lo so Sono qua È tardissimo Non ho ancora finito Ci sono ancora persone Domani devo partire Ma sono qua E da quando tornerò Fin quando non ci sarò Ci saranno i miei colleghi Da quando tornerò Mi troverete praticamente sempre in negozio O troverete comunque i miei amici E potremo sempre spacchettare Divertirci Fare Disfare Quello che volete Non vedevo l'ora di questa parte del video Introspettiva Un po' così sentimentale Chi mi conosce sa E niente Un piccolo spoiler Dai Andate sul social verticale A vedere cosa ho acquistato Da Xyuda Una bomba galattica E detto questo raga Vabbè Classiche cose Che dicono gli youtuber Io non lo sono Un'iscrizione Un like Un commento Se vi è piaciuto Se volete venire a trovarci Qualsiasi cosa Chiuderei con grazie Grazie a tutti